Allora, buonasera a tutte e a tutte, sono Giulia della PS Canapè per chi non mi conosce e oggi stiamo facendo questa presentazione, volevamo in qualche modo ricordare i 60 anni della prima volta che l'uomo è andato nello spazio, infatti 60 anni fa, quest'ora però era già tornato, Yuri Gagarin andava per la prima volta nello spazio e ci rimaneva per quasi due ore. Abbiamo deciso di organizzarlo per ricordarlo soprattutto per ragionare un attimo insieme che senso ha oggi a distanza di così tanto tempo, ricordare quella che è stata una delle missioni forse più importanti e che più hanno fatto sognare le persone, i bambini e che senso ha avuto allora e lo vogliamo fare insieme a Cristiano Armati che è della Red Star Press perché la Red Star Press ha pubblicato prima nel 2013 il primo volume che è l'autobiografia di Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio, non c'è nessun dio quassù e poi dopo successivamente, tre anni dopo, il secondo libro scritto da Gagarin che è quello che ho visto nello spazio, in realtà non scritto da lui solo, ma un lavoro diciamo più introspettivo su quella che è stata l'esperienza, l'esperienza del cosmonauta forse più famoso dei nostri tempi. Prima di iniziare vorrei passare un attimo ai saluti e ai ringraziamenti soprattutto, vorrei intanto ringraziare Stefano che ci sta seguendo e ci sta aiutando e supportando nel realizzare questa diretta, Francesco che ha avuto l'idea di organizzarla e che ha seguito Stefano nell'organizzazione tutto il giorno, Transform Italia che ci ha messo a disposizione il canale YouTube e tutti quelli che vogliono che sono intervenuti con noi, che interverranno e che seguiranno la nostra diretta Facebook. Allora stavo dicendo Cristiano, indubbiamente 60 anni dopo noi ricordiamo questo giorno che è stato un giorno mitico, io oggi prima vi stavo raccontando, in classe insegno in una scuola media, in una classe dove insegno geografia prima di iniziare la lezione sull'Europa, ho ricordato questa data e mi sono resa conto che ancora per i bambini di oggi, per i quali gli anni 60 sono un'epoca lontanissima, quasi preistorica, ma l'idea della prima volta nello spazio è comunque ancora un'idea che affascina molto, nonostante molti di loro siano cresciuti prendendo aerei, andando in giro e vedendo un mondo che noi da ragazzini non vedevamo come loro, non avevamo le stesse opportunità e le stesse possibilità. Quindi intanto la prima domanda che ti vorrei fare è questa, come mai voi avete deciso di pubblicare l'autobiografia di Gagarin e poi continuare pubblicando il secondo volume, perché eravate rimasti affascinati da bambini del primo uomo dello spazio? Sei muto? Ecco, buonasera a tutti e a tutti, grazie Giulia e all'Associazione Canapè per aver pensato di organizzare questa presentazione proprio oggi, nel 60esimo anniversario appunto di quel famoso viaggio. E noi eravamo rimasti affascinati da bambini dal viaggio di Gagarin, sicuramente conoscevamo Gagarin fin da quando eravamo bambini. Da questo punto di vista, malgrado purtroppo non possiamo dire ancora oggi la stessa cosa, diciamo, dal punto di vista anagrafico, però è evidente che continua a esserci un filo rosso che unisce anche noi con i bambini di cui parlavi tu prima, con gli alunni e le alunne della prima media, se non sbaglio, con cui tu appunto hai parlato oggi e rispetto ai quali ci riporti il loro fascino. Che cosa ci rende in qualche modo uguali a loro? E da questo punto di vista che cosa ci rende tutti quanti uguali rispetto a Gagarin e rispetto a quel 12 aprile del 1961? Beh, una cosa particolare che è anche difficile da spiegare e che è il motivo per cui al primo libro di Gagarin non c'è nessun dio quassù che è un'autobiografia di Gagarin completa anche naturalmente del famoso viaggio e poi il secondo libro appunto, quello che ho visto nello spazio che invece si concentra di più proprio sul momento della preparazione, sul racconto di che cosa significava e significa andare appunto nello spazio. Ecco, questi due libri sono motivati proprio da quello che ci rende ancora oggi tutti quanti uguali di fronte a Gagarin. Questa cosa è che si sono dati, credo, pochi momenti nella storia umana in cui qualcuno, qualcuna si è trovato nella condizione di fare qualcosa che effettivamente implicava l'entrare in una dimensione completamente nuova. Cercherò di essere più semplice. Io personalmente non sono mai andato in Australia e immagino che anche molti e molte di quanti magari ci stessero sentendo adesso non saranno andati in Australia neppure loro. Però chiunque di noi potrebbe trovarsi in Australia domani mattina prende un aereo, fa un viaggio che comunque resta lungo per andare in Australia e scende e si troverà davanti ai suoi occhi tutta una serie di immagini che in realtà già gli appartengono. Un koala, l'opera house a Sydney, il canguro. Quindi sarà sicuramente interessante andare in Australia, non so, forse avrò, non so se avrò mai l'occasione di andarci, ma di fatto io ci sono già stato. Cioè la mia memoria di specie, un qualcosa di collettivo che passa anche per me, già è lì in Australia, forgia delle immagini che sono della mia testa e rispetto alle quali io non ho nessun problema. Tutto questo non succedeva il 12 aprile del 1961, ecco. Nel modo più assoluto non c'era assolutamente nessuna idea di che cosa potesse significare questa parola, lo spazio, anzi come dicevano in quel momento, soprattutto in Unione Sovietica, in tutte le traduzioni che arrivavano anche fino a noi, il cosmo. Cioè era un'idea, è chiaro che la scienza lo aveva in qualche modo presente, è chiaro che c'erano stati tantissimi libri che in qualche maniera avevano preparato il terreno, libri di narrativa, ne cito uno perché magari in questi anni ha avuto una sua popolarità, il libro di Bogdanov, Bogdanov è stato uno dei più importanti esponenti anche del partito socialdemocratico russo, un bolshevico della massima importanza. Aveva scritto questo libro, La Stella Rossa, in cui descriveva dettagliatamente un viaggio spaziale e addirittura una vita su un altro pianeta. Questo per dire che in maniera particolare in Russia e poi in Unione Sovietica era assolutamente un tema molto forte, molto importante, ma di fatto quando Kakarin si ritrova a bordo della sua navicella, effettivamente ha con sé l'umanità intera rispetto a un salto che non poteva avere esiti scontati. Alla fin fine bisogna toccarle anche le cose per averne davvero un'esperienza diretta e questo sarà Gagarin il primo a farlo. Per questo effettivamente il viaggio di Gagarin resta imprescindibile perché oggi anche recentemente siamo stati inondati di immagini che riguardano per esempio Marte, si parla di eventuali città da costruire sulla Luna, degli shuttle che forse da qualche parte già vendono i biglietti, naturalmente non costano neanche poco, i maligni come per esempio io stesso sostengono che comunque i più ricchi stanno distruggendo la Terra ma si sono già preparati una via di fuga magari proprio su Marte, perché no? In ogni caso tutto questo non ci getta in quello stato di incredibile attesa, di grande stupore, di enorme partecipazione in cui si trovarono tutti coloro che come dire idealmente con Gagarin fecero questo primo salto. Io credo che oggi è addirittura veramente difficile anche fare un esempio perché come potremmo noi parlare di un altro mondo rispetto al quale non abbiamo proprio nessunissima esperienza, non abbiamo nessunissima immagine mentale con la quale fare i conti. Ecco dovremmo forse di correre all'infinitamente piccolo, forse immaginare noi stessi all'interno di un elettrone la possibilità veramente di toccare con mano, di viaggiare all'interno di un atomo, oppure dovremmo parlare proprio dell'infinitamente grande, quindi come dire arrivare a superare anche il confine del tempo, per andare da una stella a un'altra e arrivare direttamente a parlare con una forma di vita extraterrestre. Ecco, forse cose del genere potrebbero dare la misura di che cosa ha significato il viaggio di Gagarin. Un altro esempio per sottolineare la potenza di quel viaggio è stato il fatto che la frase che poi abbiamo scelto per dare il titolo a l'autobiografia di Gagarin, non c'è nessun dio qua su. Prima tu mi dicevi se da bambini noi avessimo avuto familiarità col viaggio di Gagarin, ecco sicuramente avevamo familiarità con la frase non c'è nessun dio qua su e per noi in qualche modo Gagarin era questo, beh comunque all'epoca il papa prese parola perché si sentì di dover specificare che comunque il concetto di Dio aveva un che di intangibile, un che di metaforico, un che di spirituale per l'appunto, ma perché potremmo anche sorridere, comunque per miliardi di persone, alla fine Dio era questo signore con la barba, il triangolo così come viene magari rappresentato e per cui effettivamente non era niente affatto scontato che dal momento che vai così in alto lo incontri, ecco ripeto, oggi a noi ci può far sorridere però secoli e secoli di affreschi nelle chiese di tutta Europa non è che erano stati fatti solo così come un abbellimento, quindi fu assolutamente un qualcosa di rivoluzionario, di enorme, di epocale il viaggio di Gagarin ed è per questo che ancora oggi rispetto a quel viaggio, indipendentemente dalla nostra età, indipendentemente da tante altre considerazioni, siamo un po' tutti come appunto i bambini e le bambine della scuola di Giulia e di tutte le altre scuole che in effetti rispetto al tema continuano a essere affascinati e evidentemente anche loro sentono la grandezza dell'essere lì per la prima volta, raccontarlo, portare con sé le immagini che ancora oggi se noi come bambini di qualsiasi scuola ci mettiamo lì a fare un disegno diciamo così della terra vista dallo spazio, alla fine ecco gli occhi di Gagarin che continuiamo a guardare quel mondo diciamo così su cui comunque nessuno è mai stato, ma evidentemente dopo il 12 aprile del 1961 ci siamo stati comunque tutti e tutti, lo spazio o Sidney, la terra blu o il koala sono acquisiti diciamo alla nostra immaginazione, alla nostra mappa mentale, al modo in cui concettualizziamo tutto lo spazio nel quale in qualche modo abitiamo, anche se poi facciamo questa presentazione che siamo ancora fra zone rosse e zone arancioni, io qualche mese che non supero viale di dorma arancia, ma insomma questo poi è un altro discorso. Ora non so se qualcuno voleva intervenire e da questo punto di vista vi ripasso la palla o se invece preferiamo entrare nel vivo di quella che è stata l'esperienza di Gagarin così come ci è stata raccontata da lui stesso sia per quanto riguarda la sua vita sia per quanto riguarda la sua storia proprio da astronauta e quindi tutto quello che questo ha significato insomma perché senz'altro andare nello spazio non è che fu propriamente una passeggiata insomma ecco richiesto sicuramente tantissimi sacrifici, grandi investimenti e soprattutto eh una spinta emotiva davvero davvero notevole insomma è assolutamente affascinante. Ma intanto io volevo aggiungere una cosa cioè il fatto secondo me del fascino estremo che continua ad avere tu dicevi se oggi dovessimo immaginare eh una missione così importante come quella che è stata nel 61 di Gagarin verso un uno spazio che non si conosceva di cui non si avevano immagini quindi era qualcosa che nessuno mai aveva visto e lui ha potuto raccontare per la prima volta è proprio nel fatto che noi in realtà quello spazio in qualche modo ce lo potevamo e ce lo potevamo allora e ce lo possiamo ancora e ancora oggi i ragazzi lo fanno immaginare alzando gli occhi verso il cielo cioè è qualcosa che fa parte della nostra quotidianità ma che diventa irraggiungibile lontano è da spazio alla fantasia no? E quindi eh come dire un racconto da chi invece c'è stato cioè dall'altro punto di vista e l'idea che qualcuno abbia potuto avere quell'altro punto di vista è qualcosa che eh a me nonostante non faccia più la prima media ma insegno a loro continuo ad affascinarmi no? Un po' poter andare magari su una stella o quanto sono grandi le stelle che noi vediamo così piccoli è un mondo forse uno dei pochi spazi di fantasia che ancora rimangono anche bambini che spesso sono invece condizionati e guidati nelle loro fantasie da mille altri da tutte quelle immagini che tu dicevi di cui noi siamo circondati per cui il mondo il viaggio sulla terra in altri posti della terra in realtà non è più uno stupore così forte perché andiamo a rivedere delle immagini che in qualche modo abbiamo visto tu prima citavi Sidney ci è il cartone animato dei bambini Nemo quindi loro già sanno che cos'è eh che cos'è ma torniamo al nostro Gagarin intanto diciamo ci sono alcune alcune sue frasi che eh che secondo me eh continuano ad essere eh veramente come dire illuminanti voi ne avete scelta una che ovviamente ha tutto un certo tipo di mondo è molto chiaro è molto caro perché il fatto che si vada nello spazio e si affermi non ci sta nessun Dio come invece nella rappresentazione umana no la collocazione del Dio è sempre al di sopra gli dei dell'Olimpo gli dei 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 greci erano sull'Olimpo e via via poi dopo nel mondo cristiano e cattolico comunque la rappresentazione del Dio è nello spazio perché deve guardare dall'alto la terra e ci deve guardare tutti quindi questa è l'altra secondo me bellissima è quella che noi avevamo scelto come titolo di quest'iniziativa quando lui dice che non soltanto la terra dalla sua è bellissima ma è senza frontiere nei confini a me questa sembra un'osservazione che può sembrare per qualcuno banale ma in realtà è come dire raduce un mondo interiore ideale è tutta la terra non non siamo di confini sono una cosa che abbiamo messo noi le frontiere sono una cosa che alziamo noi la terra di per sé non ce li ha sia dei confini naturali ma confini naturali si possono varcare in qualche modo no non c'è questa non c'è per la violenza in qualche modo di chiudere gli spazi a me piace di molto di più pensare alla terra nel suo insieme a tutti noi che viviamo sulla terra come un unico popolo e non un popolo frazionato l'altra cosa che mi sembrava molto interessante è quella che voi invece avete scelto come quarta di copertina quando lui dice appunto che girando intorno alla terra dice il mondo dovrebbe permetterci di preservare aumentare questa bellezza non distruggerla bene detto come dire 60 anni fa quando in fondo non lo dicevano in tanti mi sembra che sia stata un'altra osservazione puntuale e centrata perché forse è una delle cose appunto con i bambini spesso si lavora su questi temi perché nonostante se ne parli molto però ancora oggi non riusciamo a capire che in realtà la terra la dobbiamo veramente preservare se no come dicevi prima tu i ricchi i potenti la stanno minando e distruggendo forse perché sono se ne sono preparati un'altra noi abbiamo solo questa e quindi cerchiamo di fare in modo che siamo sempre più le persone che vogliano come pensava gagarin proteggerla mi piacerebbe che tu ci raccontassi a meno che non c'è qualche di un altro che vuole intervenire ma intanto mi piacerebbe come dire dare qualche informazione su chi era gagarin da dove arrivava cioè è anche interessante il personaggio ricordiamoci 1961 nessuno era passato nello spazio ma è anche un momento storico particolare è il momento della guerra fredda è il momento dopo la seconda guerra mondiale ci sono i due blocchi contrapposti lui è persona convintamente appartenente all'unione sovietica un paese che ragionava in altro modo e che dava sicuramente la possibilità a tutti di raggiungere i propri quanto meno dare gli strumenti per far sì che si potessero raggiungere dei sogni o si potesse comunque realizzare qualche cosa un po quello che noi abbiamo nella nostra costituzione non lo stato dovrebbe intervenire per togliere le differenze sociali e consentire a tutti di perseguire i propri desideri una bellissima costituzione per ora diciamo ancora molto su carta forse oggi ancora di più gagarin da dove arrivava ma allora ehm è interessante questa questa domanda perché eh quelle frasi che effettivamente noi abbiamo scelto e che tu citavi eh non sono niente affatto diciamo così casuali e ci hanno una storia precisa cerchiamo di arrivarci proprio a partire da dal punto in cui eh cristiano forse ha avuto un problema di linea spero che riesca l'abbiamo a risolverlo subito non so se intanto qualcuno voleva dire qualcosa beh no Giulia io eh sono a viaggio vabbè ciao a tutti a tutte no quello che pensavo che forse ci occorre un altro gagarin per uscire dallo stallo ma sono andato troppo avanti insomma no effettivamente anche per per avere un po no gli elementi che tu dicevi appunto che la terra non ha confini eh vista da su insomma che magari questi confini li hanno creati l'ha creato l'uomo ha comunque queste religioni che sono abbastanza eh che hanno eh influenzato per parecchi secoli no ma poi comunque nella storia ci sono stati comunque personaggi che hanno messo in discussione gli stessi di stessi scienziati insomma no Leonardo non è che è tutto così piatto insomma come la famosa storia della teoria dei dei teoreviattisti però ma era solo per a proposito di confini possiamo dire che noi comunque siamo stati in grado di alzare muri noi non soltanto confini ma abbiamo ma abbiamo anche alzato muri no ma sto in conference dimmi comunque brevemente viaggio devi chiudere il microfono altrimenti vai in streaming con la tua telefonata eccoci non è rimasto col microfono acceso stavo dicendo non soltanto confini no uno dei temi eh che sono comunque dibattuti ancora oggi sono i muri a partire dal muro di Trump con con il Messico eh ma c'è il muro il muro di Gaza insomma noi abbiamo il l'uomo tira su muri ecco Cristiano ben tornato da noi si è tornato sì sono sono io in realtà credevo di non essere mai andato via ma insomma è il bello di questi di questi strumenti ora non so se mi sentite io stavo rispondendo a Giulia dicendo che le frasi che lei citava ehm non c'è nessun diocco assù eh girando attorno alla terra ho visto quanto è bello il nostro pianeta e il mondo dovrebbe permetterci di preservare questa bellezza non di distruggerla o anche l'altra frase eh la terra vista da qua su è bellissima senza frontiere nei confini hanno una storia eh precisa è una storia che ha profondamente a che fare con la vita di eh di Gagarin anche anche proprio a partire dal luogo in cui eh Gagarin è nato questo piccolo villaggio che si chiamava Cruscino un villaggio che eh sta mh eh avvicinandosi al confine con la con la Polonia ehm un villaggio ehm in cui Gagarin eh fece quel gesto eh di guardare eh il cielo che insomma si continua a fare ancora oggi e che eh chiunque eh penso nella storia umana ha fatto però il gesto di Gagarin eh in quel in quel momento era un gesto particolare si guardava il cielo perché eh inizialmente a un certo punto si vedevano passare i minacciosi eh caccia bombardieri nazisti che eh aggredivano eh l'Unione Sovietica che tentavano questa questa invasione che costerà eh milioni di morti e che tra le altre cose si impossessa anche del villaggio di eh Gagarin eh Gagarin bambino quindi a un certo punto guarda il cielo eh perché eh comincia a vedere che eh altri aerei eh cominciano a eh prendere il posto insomma degli aerei nazisti e sono proprio quelli invece dell'aviazione eh sovietica le cose eh stanno cambiando ci sono i partigiani nel villaggio di Gagarin e piano piano la loro attività da clandestina diventa palese le cose cambiano Gagarin ancora un bambino e il villaggio ritrova la sua indipendenza all'interno dell'unione dell'unione eh sovietica. Qui eh inizia eh il percorso eh di di Gagarin no? Gagarin è famoso anche eh per un altro motivo era figlio di un carpentiere era figlio di un falegname era figlio di eh una signora che eh lavorava nell'azienda collettiva agricola era a quanto pare particolarmente brava nella nell'allevamento delle mucca aveva vinto pure diversi premi per non so la mucca che produce più latte insomma eh questa era la dimensione di 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 Gagarin una dimensione dove però ben presto insieme al lavoro c'è la possibilità per esempio dello studio c'è c'è la scuola ecco Gagarin che pure viene da una piccola eh località eh di di campagna eh ha la possibilità di eh trasferirsi attraverso lo studio attraverso eh il lavoro e eh alla fine arriverà a Mosca eh dove lavorerà farà lui faceva l'operaio l'operaio tornitore ma ehm nella fabbrica eh c'era anche ehm la possibilità per esempio di entrare a far parte di un aeroclub allora quella passione che Gagarin aveva preso appunto semplicemente guardando il cielo cercando così dei segnali di eh speranza diventa un una cosa concreta eh per cui insieme al lavoro eh c'è la possibilità prima di pilotare questi piccoli aeroplani da turismo diremmo diremmo oggi insomma eh proprio fatti anche per imparare i primi rudimenti e e chiaramente sempre lo studio perché eh mano a mano che la cosa diventa diciamo così più seria aumentano anche ehm le nozioni che bisogna padroneggiare no? Il tutto sempre facendo l'operaio eh tornitore però eh ecco allora la fisica ecco allora la tecnologia dei metalli ecco allora eh insomma tutto ciò che eh effettivamente ti porta a poter capire come mai eh un 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 manufatto no? Fatto di acciaio pesantissimo eccetera può effettivamente eh volare ecco ehm piano piano le doti di Gagarin da questo punto di vista eh emergono e effettivamente ehm c'è in quel momento in Unione Sovietica eh sicuramente da un punto di vista eh più generale no? La guerra fredda questa corsa per lo spazio che eh ha tanti tipi di di valori ma c'è effettivamente un'enorme spinta di massa cioè c'è un'attenzione rispetto ai temi scientifici rispetto allo studio rispetto al discorso della conquista appunto dello spazio che ripeto aveva delle radici profonde esiste per esempio una tradizione di scrittori di fantascienza sovietica incredibile ecco eh quindi non soltanto i libri di Orson Welles o di eh Verne no? Che in qualche modo pregonizzavano ehm c'era anche una tradizione locale eh molto forte molto seguita eh che in qualche modo fungeva anche da eh carburante no? In questa in questa corsa a un certo punto dal piccolo aeroclub eh della della fabbrica Gagarin eh è uno dei tre mila quattrocentosessantuno candidati che inizialmente eh in maniera molto larga vengono selezionati rispetto alla possibilità di prendere parte a eh una eh missione spaziale eh piano piano appunto ehm il il gioco si fa sempre più serio ehm i candidati da tre mila quattrocentosessantuno diventano prima addirittura solo venti nel gennaio del millenovecentosessantuno sono soltanto in sei ehm arriviamo al dodici aprile ancora la sera dell'undici aprile erano in due le persone che avrebbero potuto svegliarsi la mattina e eh salire su questa navicella che eh appunto eh prende il nome di eh Vostok uno Vostok significa oriente e alla fine viene scelto Gagarin a quanto sembra proprio perché figlio di un carpentiere figlio di gente eh di un'azienda collettiva insomma eh rappresentava in maniera compiuta quella che era la nuova eh unione unione sovietica da qui eh il famoso eh viaggio di cui di cui stiamo parlando e le frasi che Gagarin dice non sono frutto del caso ehm esisteva all'interno dell'unione sovietica a partire già dalla seconda guerra mondiale un qualcosa di cui ancora oggi ci sono eh i segni per quanto eh forse non in grado di esprimersi con la forza che meriterebbero questo qualcosa era il movimento per la pace eh il movimento per la pace era un vero e proprio movimento per il cambiamento sociale che individuava effettivamente nella guerra eh uno strumento tipico della società capitalista eh la necessità che il capitalismo ha di generare eh periodicamente delle immani distruzioni no per rigenerare eh la possibilità eh del capitale di produrre eh profitto questo era un grande nemico e e immaginiamo che per esempio ehm eh un'istituzione come il premio Lenin per la pace che cosa andava in qualche modo a eh toccare esattamente questo tipo di discorsi quindi questo tipo di frasi che Gagarin questo tipo di pensieri ehm sono assolutamente interni a questo ehm a questo ragionamento un ragionamento eh molto molto profondo e che tra l'altro voglio dire nel libro di Gagarin non c'è nessun dio quassù nella sua eh autobiografia sono sempre sempre presenti Gagarin parla anche direttamente per esempio parla a tantissimi aviatori cita cita molto parla come del suo autore preferito per esempio dell'autore del piccolo principe no eh Eusperi che era un pilota che peraltro voglio dire scompare letteralmente alla guidanza lui era era eh non solo per il piccolo principe era famoso per i libri scritti dal punto di vista dei piloti delle linee postali e questo affascinava tantissimo Gagarin ne parla diffusamente ma parla anche per esempio dei suoi colleghi astronauti eh statunitensi perché c'era effettivamente questa corsa nello spazio e lui ne parla con ammirazione ne parla cioè da questo punto di vista sottolinea i successi che avevano avuto e in qualche modo dice io eh veramente mi sento vicino a loro perché penso che loro debbano fronteggiare un nemico enorme che io invece non ho in nessun modo e questo nemico è la solitudine perché alla resa dei conti nella società del consumo ognuno è condannato alla sua solitudine non non su questo insiste tanto cioè io veramente ehm ho creduto sempre di eh stare su quella navicella insieme a tutto il popolo sovietico anzi proprio a tutti cioè ecco io eh non sapevo no perché conosco naturalmente la canzone della banda Bassotti ehm che quindi parla di Gagarin figlio di un carpentiere un astronauta figlio di un carpentiere Gagarin figlio dell'Ottobre Rosso perfino Claudio Baglioni ha dedicato una canzone a Gagarin dove dice figlio dell'umanità no? E questo ehm questo magari qualcuno lo potrebbe attribuire no? Cioè ecco ha una certa attitudine di baglioni a smussare diciamo così alcuni aspetti ma in realtà da questo punto di vista eh Gagarin stesso che eh trasmette un messaggio di di fratellanza molto molto forte la nella nella ehm bandella no? Dove c'è la biografia dell'autore noi abbiamo scelto di mettere eh una una fotografia di Gagarin no? Eh assolutamente emblematica cioè eh teneva molto a questo tipo di messaggio perché effettivamente poi si parla di guerra fredda ma non è che mancava nemmeno la guerra calda no? Si potrebbero citare tantissime cose eh che sarebbero poi successe che erano successe eh di di guerra guerreggiata sporca ehm ma eh per qualche motivo lo spazio in quel momento si sottraeva anche a a a quel tipo di logica eh Gagarin una volta tornato ehm a terra girerà girerà il mondo verrà accolto ovunque c'aveva questa era una sua dote effettivamente no? Questo sorriso questa capacità effettivamente c'è Gagarin abbracciato a qualsiasi popolazione del mondo dovunque accolto con un affetto un'ammirazione che non che era dovuta proprio anche al carisma personale in qualche in qualche in qualche maniera. Volevo anche dire una cosa ehm perché ci sono tanti motivi per cui si fanno i libri, hanno un valore storico, questo di Gagarin è imprescindibile, però i libri si pubblicano e si leggono anche per un motivo magari più banale ma in realtà anche più importante. Cioè i libri eh si pubblicano e si leggono perché sono belli e questo di Gagarin non c'è nessun dio quassù, è davvero un libro bellissimo, un libro che io tante volte paragono al Tom Sawyer era di Mark Twain e quindi sicuramente lo darei anche ai ai bambini lo possono eh diciamo che chiunque lo legge effettivamente avrà una una bellissima esperienza perché poi non ci dimentichiamo un elemento che oggi viene sempre eh distrattato no? Quello di quella di Gagarin tutta la tutta la storia di Gagarin è la è la storia di un ragazzo è spesso la storia di un bambino poi di un ragazzo cioè Gagarin effettivamente compie il famoso viaggio quando è nel 1961 a 27 anni cioè lui a 27 e tutta questa epopea si era consumata che lui aveva 27 anni insomma ehm questa cosa poi è interessante da un altro punto di vista è interessante perché eh effettivamente ehm si parla a volte no del club 27 cioè quindi questa strana età in cui poi sarebbero morti ehm Jim Morrison, Jerry Joplin, Jimi Hendrix, anche Kurt Cobain e eh eh e Amy Winehouse eh lui fa il viaggio a 27 anni eh nel 1961 morirà eh quando ne ha trentaquattro nel 1968 una data anche qui eh assolutamente particolare no? Perché il 68 è proprio l'anno dell'insorgenza giovanile mondiale dagli Stati Uniti, la Francia, l'Italia dove ci sarà un lunghissimo 68 e e la figura nel 68 c'è anche l'offensiva del Tet, la guerra in Vietnam, insomma ehm il Gagarin eh è centrale proprio all'interno di queste date e ai suoi eh significati. Eh in qualche modo ehm come una rock star rappresentante anche di un cambiamento giovanile, anche della possibilità eh delle persone giovani comunque di prendere in mano il destino del mondo, di vedere le cose con occhi che evidentemente non sono quelli stanchi eh della della burocrazia, del potere, della eh della dell'amministrazione eh dell'esistente insomma e e anche questo è un motivo poi eh del grandissimo affetto che comunque circonderà Gagarin ovunque a dispetto proprio di qualsiasi appartenenza, di qualsiasi cioè si riconosce in Gagarin un messaggio puro effettivamente di pace, della possibilità di una fratellanza eh una cosa molto bella da questo punto di vista. La parola Giovanni che stava con la mano al Stato. Forse parola Giovanni? Sì sì sono, mi sentite? Sei? Sì. Mi sentite? Ok, io non mi vedo più per cui vabbè, pazienza. No, a me una cosa che ha colpito ehm un attimo solo. Lucia dovresti abbassare il volume del tuo computer. Una cosa che ha colpito è l'assonanza che io trovo fra le due frasi di Gagarin, le due frasi proprio iconiche di Gagarin, cioè non c'è Dio quassù e da quassù la terra è bellissima senza confini e il testo Imagine di John Lennon che è esattamente di dieci anni più tardi. Immaginate che non ci sia un paradiso, uno dice sky, dice heaven e immaginate che non ci siano paesi, nel senso che non ci siano confini. Ora, il 61 è l'anno in cui, che ne so, gli Stati Uniti interrompono le relazioni diplomatiche con Cuba, c'è l'invasione della Baia dei Porci, eppure questo evento e questo evento come poi è commentato da Gagarin mi verrebbe da pensare, chiaramente è un'interpolazione mia ma insomma secondo me ha una sua validità, che sia una specie di miccia lunga che poi andrà a svolgersi per tutto il decennio successivo, per finire appunto poi nel 68 l'uvus in fabbola appunto. Nel 68 e in quanto segue. Niente, mi piaceva soltanto cogliere questa assonanza. Qui le telecamere stanno facendo le pazzarelle, vabbè. Io ho finito, grazie. Cristiano, sei mutato. Estiva il microfono. Ecco, no, stavo dicendo, rispetto a questa osservazione, non è affatto peregrina, cioè che John Lennon abbia in qualche modo, come dire, seguito il viaggio di Gagarin è proprio scontato. Che abbia addirittura letto il libro di Gagarin è assolutamente probabile. Ripeto, noi non ci rendiamo conto nel senso che non c'era stato nella storia della comunicazione umana un qualcosa di seguito come fu seguita l'epopea di Gagarin in quel momento, proprio nel modo più assoluto. Il libro di Gagarin, che noi poi abbiamo scelto di chiamare Non c'è nessun dio qua su, si intitolava originariamente La via del cosmo, venne tradotto in decine e decine di lingue, chiaramente stampato in tutto il mondo. Ripeto, ha dalla sua una grande forza, è proprio un libro bello, è un romanzo di formazione di questo bambino che vuole fare l'astronauta e che ci riesce all'interno sicuramente di una società socialista e che porta avanti comunque dei discorsi che parlano di pace del mondo, di fratellanza, di disarmo, insomma, quegli anni non sono casuali e nemmeno la ricezione di Gagarin lo fu, appunto, io prima citavo addirittura Claudio Baglioni, ma John Lennon non fu da meno da questo punto di vista. Le frasi sono assolutamente quelle di Gagarin, che erano comunque le frasi del movimento della pace, che quando noi mettiamo magari ancora oggi la bandiera arcobaleno, no? O si metteva, ha avuto il suo acme con la guerra del golfo, è di questo. Noi stiamo parlando di Gagarin in qualche maniera, ecco, il discorso è esattamente lì, quindi assolutamente John Lennon è stato un esponente importante, ma insomma ce ne sono davvero tantissimi altri, quindi l'osservazione da questo punto di vista è assolutamente pertinente, insomma. Bene, qualcuno vuole dire qualche cos'altro? O ci facciamo raccontare qualche altro? Beh, sulla parte oggi sentivamo appunto un servizio alla televisione che ovviamente ricordava il volo nello spazio di Gagarin e poi però non potevano che porre l'accento sulla fine misteriosa di Gagarin, come per dire vabbè si è fatto questo, poi però ricordiamoci che stava sempre in Unione Sovietica e lì succedevano cose che non si possono raccontare, questo era il sottotitolo che passava, no? Che si capiva chiaramente insomma che volessero intendere nel servizio al telegiornale ed è un peccato. Da quello che dici io appunto ne ho letti soltanto alcuni brani ma come dire leggerò con più attenzione, non c'è nessun dio quassù perché tutti questi discorsi mi convincono sempre di più nella proposta che tu facevi, cioè proponiamolo nelle scuole, forse facciamo vedere anche un'Unione Sovietica diversa rispetto a quella che viene di solito raccontata a scuola, no? E nell'immaginario collettivo comunque e invece diciamo quelli che erano dei sentimenti poi veramente senza confini, cioè stai parlando di come dire un movimento emotivo che era realmente senza confini e senza frontiere, che ha colpito, che ha investito le varie parti del pianeta ed è secondo me importante che le giovani generazioni ne siano consapevoli, forse perché uno dei problemi che hanno in questo momento è quello di sognare un mondo diverso, no? Di vedere, di vedere oltre le zone rosse oltre il confine che hanno e allora magari dirgli che anche i vecchioni del secolo scorso immaginavano qualcosa invece di, che ancora non siamo riusciti a realizzare, può aiutarli nella costruzione di un loro mondo migliore che forse non sarà quello che abbiamo immaginato noi ma avrà sicuramente delle caratteristiche interessanti. Ma allora, sulla fine di Gagarin, sulla fine di Gagarin io veramente ho anche sentito, ho anche sentito addirittura persone sostenere che Gagarin sarebbe stato ucciso da Stalin. Chiaramente tutti i dettagli storici che rendono assolutamente impossibile questa cosa non sono importanti, no? Succede da questo punto di vista che c'è chiaramente un sottotesto che mira alla disinformazione assolutamente costante. Sì del caso, nei tempi più recenti siano stati anche pubblicati proprio gli atti rispetto a ciò che accadde con Gagarin e a Gagarin accadde esattamente la stessa cosa che accadde all'autore del Piccolo Principe. Il suo aereo si avvitò e precipitò esattamente, era un MIG, un aereo che magari rispetto a guidare un'astronave, diciamo così, potrà sembrare semplice ma un mezzo assolutamente importante. Praticamente l'avvitamento dell'aereo di Gagarin fu dovuto comunque alla manovra scorretta fatta da un altro pilota che in qualche modo si trovava in una posizione dove non si sarebbe dovuta trovare. Ecco, questa è una versione poi confermata anche da un caro amico di Gagarin ancora in vita. Insomma, purtroppo non ci sono misteri sulla morte di Gagarin. Magari c'è tanta disinformazione, al tempo stesso magari è una disinformazione che è aiutata da, come dire, come se fossimo anche noi a volere che, come dire, che Gagarin non può finire così, ecco, mettiamola in questo modo. Chi è andato nello spazio poi non può, diciamo, morire pilotando in, diciamo, in un'occasione assolutamente di routine, un piccolo aereo, viene detto, il MiG è comunque un aereo supersonico, insomma, non è né piccolo né proprio banale, ma non è questo il punto. Quindi, purtroppo, come dire, questo è effettivamente quello che è accaduto. Invece è più interessante effettivamente il rapporto proprio con i giovani e Gagarin, no? La biografia di Gagarin è interessantissima. Cioè, da una parte, voglio dire, io credo non esista quasi sport praticato sulla faccia della terra, rispetto al quale non ci sia una fotografia di Gagarin intenuta di quello sport. Dallo scinnautico al calcio, la vera passione di Gagarin era l'hockey, veramente lì la pallacanestro rifaceva veramente tutti. Esistono delle fotografie di Gagarin perché nel Cosmodromo non c'erano solo allenamenti per quanto duri, sperimenti in assenza di gravità. Questo viene raccontato nel libro, quello che ho visto nello spazio, che è stato scritto insieme a Vladimir Lebedev, che viene considerato, diciamo, l'uomo che ha inventato lo studio della psicologia in situazioni eccezionali. La sua esperienza era quella di preparare i submergibilisti. Non è che esistessero degli istruttori per lo spazio, no? Visto che era la prima volta, diciamo, che ci si andava. E dicevo che nel Cosmodromo c'erano anche i momenti di relax, i momenti di festa. C'è addirittura una foto dove c'è una grande parata in maschera all'interno del Cosmodromo dove c'è Gagarin vestito da Nettuno. Ecco, questa è la fotografia in questione. A Gagarin piaceva anche la vodka, tant'è che per una serie di motivi c'avevano l'ossessione rispetto alle cose da mangiare che potevano essere portate all'interno della navicella. Questa ossessione, se si può usare questa parola, era dovuta a due motivi. Il primo era che nel caso in cui i retrorazzi non avessero funzionato, insomma, si poteva prevedere che la navicella a rientrare nella terra avrebbe impiegato anche dieci giorni. poi in realtà i razzi funzionarono da quel punto di vista bene perché se non avessero funzionato non ci sarebbero voluti, dato un piccolo errore nell'angolo, quindi un piccolo errore di calcolo, ci sarebbe voluto un mese e non dieci giorni, ma soprattutto c'era anche il discorso che fra le varie ipotesi rispetto all'essere nello spazio si era tra le mille cose anche prevista la possibilità di una fame cosmica. Ecco, fatto sta che proprio mentre Gagarin sta lì nella navicella e parla con Koriolov, che era il responsabile del programma spaziale russo, parlano di cose da mangiare. Poco prima di partire parlano di cose da mangiare. C'è Koriolov che gli dice, non ti preoccupare, hai 63 razioni, hai la marmellata, il salame, tornerai grasso. Gagarin gli risponde, ah il salame è ottimo, sta bene con la vodka, ma la vodka non c'era comunque sulla navicella, questo è bene dirlo. Poi nel momento della partenza, ecco, Gagarin fa delle cose che in quel momento, non so, lui non credo insomma che potrebbe immaginare che poi sarebbero diventate parte di un rituale, perché immaginiamo che il cosmodromo di Baikon, Urin Kazakistan, è ancora attivo e non è che hanno smesso gli astronauti, no? Ci stanno anche adesso mentre noi parliamo e chiunque vada nello spazio fa le stesse cose che ha fatto Gagarin. Gagarin mentre si spostava per raggiungere la navicella, praticamente deve fare la pipì, per cui scende da questo autobus e fa la pipì sulla ruota dell'autobus. Da allora questo pare che sia diventato un rituale, no? Che se non fai la pipì sulla ruota dell'autobus, mentre praticamente stai quasi sulle scalette della navicella e non puoi andare nello spazio, no? Anche la colazione di Gagarin, cioè è nota perché la mattina si svegliano le cinque e mezza del mattino. Gagarin sa che deve andare nello spazio, peraltro scrive tutta una lettera alla moglie, era una lettera che doveva servire nel caso in cui magari non sarebbe tornato. La lettera alla moglie di Gagarin gli verrà data proprio nel 1968, sette anni dopo, quando c'è l'incidente, danno la lettera di Gagarin alla moglie. Quindi lui ha scritto tutta questa lettera, una lettera dove parla delle loro bambine, dove parla proprio anche della sua gioia rispetto a questa cosa. Comunque fa colazione, mangia carne tritata, marmellata di more e caffè. Questo è il menù dell'astronauta, quindi tenete sempre queste cose in frigorifero, non si sia mai, insomma, dovesse essere chiamati da un momento all'altro. Dopodiché, sta lì sulla navicella, aveva il sottotuta che era blu, di un materiale particolare, e poi c'aveva la tuta vera e propria, quella che tutti quanti vediamo, e prevalentemente la vediamo in bianco e nero, perché la maggioranza delle fotografie, no, ancora, sono, sono, che lì è una memoria in bianco e nero quella ancora di Gagarin, ma in realtà esistono pure le foto a colori, e la foto di Gagarin era, la tuta di Gagarin, la tuta degli astronauti, era arancione. Allora, immaginate, la tuta degli statunitensi era bianca, quella ce l'abbiamo presente. Perché la tuta di Gagarin è arancione, quella dei cosmonauti è arancione? È arancione perché quella era la divisa degli operai. E quindi fanno questo gesto profondamente simbolico, ma pure pratico, perché Gagarin faceva letteralmente il tornitore fino a qualche tempo prima. E quindi, come dire, per sottolineare l'importanza di quella enorme categoria sociale sulla quale si fondava in qualche modo l'Unione Sovietica, ecco, la tuta era arancione. Questo lo rimarca in continuazione Gagarin. E sarà anche un motivo per lui di un enorme conforto, perché dura 108 minuti. Insomma, il razzo parte, raggiunge il punto orbitale, fa un giro completo della Terra, inizia il rientro, che a un certo punto Gagarin sta in un abitacolo grande come quello di una 500. Questo è assolutamente scarno, ha pochissimi strumenti e a un certo punto praticamente la temperatura della superficie esterna comincia a salire. Gagarin deve ricorrere all'espulsione, cosa che era naturalmente prevista, si lancia, cioè il sedile chiaramente di questa 500 spaziale, espelle l'astronauta, sta a 7 chilometri dalla Terra. Cioè, si lancia da 7 mila metri e vede questo grande fiume e dice che deve essere il Volga. Insomma, ci abbiamo preso, perché comunque in realtà ci prendono abbastanza, perché non sta così lontano dal punto di partenza e praticamente alla fine a terra ci aveva il terrore, perché nell'equipaggiamento c'aveva pure una specie di canotto, il problema era che nell'espulsione insomma il canotto se lo perde, quindi non ce l'ha. Quindi il vero pericolo è cato nel fiume, invece tutto quell'armamentario comunque non era una passeggiata, non cade nel fiume, cade proprio in un corcos, cioè in realtà sbagliando non di molto l'angolo alla fine succede una cosa più bella, perché anziché cadere esattamente nel cosmodromo cade in un'azienda colcosiana. Praticamente la prima persona che vede è una signora di una certa età con un vitello, perché lei faceva come la madre l'allevatrice di vitelli che stava là con la nipotina di 6 anni. Quando lo vedono, lui gli deve dire non vi preoccupate compagnie, sono dei vostri, sono anche io un sovietico, cioè la signora che gli dice sarebbe un sovietico, ma da dove vieni? Dal cielo e gli fa, beh effettivamente, poi in quel momento voglio dire si avvicinano altre persone che sanno, che chiaramente non è che non si sapeva che... e quindi Gagarin, Gagarin, e lì comincia per l'appunto poi l'enorme celebrità di Gagarin. Ecco, un altro piccolo particolare, perché c'è da dire che effettivamente questo anche è un elemento di riflessione, perché tu a 27 anni vai nello spazio, praticamente tu come pilota, poi Gagarin si dà volontario per qualsiasi altra missione, cioè c'aveva il desiderio di tornare, no? Avrebbe anche dovuto farlo, però diciamo che tu come pilota hai fatto già tutto, no? Effettivamente pensi a che cosa fare nella vita, c'hai 27 anni, Gagarin pensa a diverse cose, no? Fra queste pensa proprio di fare lo scrittore, di fare lo scrittore, peraltro a un certo punto lui ha un appartamento, piccolo appartamento, ma nota con grande interesse che questo appartamento è un appartamento in un palazzo ad angolo e che era uguale a quello che c'aveva Tostoievski. E questa cosa gli fa particolarmente piacere, insomma, come modello letterario era più alto forse dalla luna, ma insomma, voglio dire, visto che era andato sulla luna, poteva anche guardare a quello, perché no? E effettivamente scrive tanto Gagarin. I due libri che abbiamo fatto sono una parte di ciò che effettivamente ha scritto, ha scritto anche su una base, cioè Gagarin ha studiato tantissimo, perché lui dalle scuole normali, poi è andato in fabbrica, faceva le scuole serali, poi dopo ha fatto studi universitari, a maggior ragione nel momento in cui effettivamente fare il pilota non era il dopolavoro, ma insomma, entrava nell'aeronautica, come se non bastasse, a un certo punto, dato che cresceva anche il suo ruolo, eccetera, e lui comincia a studiare con maggiore intensità tutti i classici marxisti, lirinisti, perché non gli bastava fare tantissimi esami, cioè quelli universitari, anche sul lavoro, le prove di abilitazione, quelli rispetto all'aeroclub, i vari patentini, chiamiamoli così, per il volo, ma poi deve fare l'esame d'ammissione al partito comunista, dove lo interrogano il marxismo e il leninismo, peraltro, eppure quello studia, e lo studia bene, l'esame lo passa, ma si potrebbe fare una gara per vedere quante frasi di Lenin si possono trovare all'interno del libro di Gagarin, ma in maniera proprio armoniosa, ecco, non è che lui ti fa la lezione in Cina. Quella più interessante è proprio il modo con cui si conclude il libro, quando lui dice, noi sicuramente le supereremo le stelle, incontreremo la vita in un altro pianeta, troveremo pianeti nuovi, troveremo... lo faremo perché, d'altra parte, noi sovietici, si sa, non amiamo fermarci a metastrata, e questo era quello che veniva detto, eh, da Lenin, ma significava, eh, c'erano i teorici, come dire, no, che bisogna fare per forza la rivoluzione borghese, dopodiché innescare la rivoluzione industriale, poi dopo sette, ottomila anni, no, e a un certo punto arriverà, eh, il socialismo, diciamo, da solo, no? E Lenin diceva, no, ecco, non fermiamoci a metastrata, come hanno fatto in Francia, con la grande rivoluzione, cioè, non fermiamoci a metastrata, prendiamoci tutto, ecco, e il libro finisce proprio così, a noi sovietici non ci piace fermarci a metastrata, e quindi già era proiettato effettivamente verso una possibilità, cioè, quella veramente grande, al momento non mi risulta che effettivamente ci sia arrivati, perché il vero problema, ehm, rispetto alle esplorazioni spaziali non è tanto la distanza, quanto il tempo, e le cose ci sono, le vediamo, ma sono, sono lontane non metri, ma proprio anni, ma proprio secoli, millenni, ecco, e questa è una cosa che effettivamente una frontiera che non è stata ancora valigata. Comunque vorrei anche ricordare che è sempre dall'Unione Sovietica che è fatta la prima donna nello spazio, no? Era una mezza. Due anni dopo, delle scove anche lei, operaia, ammiratrice di Gagarin, è la prima donna da andare nello spazio, io non so quando poi dopo sia andata un'altra donna nello spazio, ma indubbiamente anche questo è, come dire, una, è un evento importante su cui riflettere, no? Che, che anche lei ha potuto andare come quello che era stato, eh, il suo, il suo eroe finalmente nello spazio. Beh, c'hanno una storia per alcuni versi anche simile, eh, la Terescova era figlia di un carrista, eh, eh, dell'esercito, eh, la Terescova, eh, può guidare un aeroplano per pure lei in un, in un aeroclub, in un aeroclub, eh, al, al dopo lavoro, e, peraltro, eh, la Terescova e Gagarin erano proprio amici, ci stanno foto loro sempre, Gagarin con la vodka questa volta, effettivamente. Poi la Terescova sposerà un altro astronauta, molto amico di Gagarin, proprio il, eh, il compagno di Gagarin, e, e, peraltro, gettando a un certo punto nel panico, anche lì, sempre il discorso è un'atmosfera sconosciuta, una dimensione. Cioè, quando la Terescova resta incinta di un altro astronauta, erano tutti stati nello spazio, loro non sapevano che cosa aspettarsi, eh. Cioè, erano, dici, questi hanno praticamente concepito nello spazio, cioè, che cosa potrà, che succederà, che poi non succede niente. La Terescova c'è da dire una cosa, è ancora viva che, francamente, è ancora iscritta pure al Partito Comunista, eh, ne, non ha cambiato grosse, grosse idee, ecco, rispetto, rispetto all'evolo. Intanto per avere la prima italiana nello spazio bisogna aspettare il duemila già avanzato, e questa, e questo lo dice lunga, la dice lunga. Bene, non so se ci sono... Stoforetti ha reso proprio omaggio alla figura di Gagarin, eh, certo. Recentemente. Voglio dire, penso che chiunque vada nello spazio non può, come dire, non aver, non essere, rimasto affascinato e non aver studiato e non dedicare il suo viaggio al primo, al primo che ci è andato. L'altra cosa, diciamo, che viene fuori da tutto questo è che alla fine fare il giro del mondo nello spazio è velocissimo, perché lui, alla fine, in meno di due ore è andato, ha fatto il giro e è tornato indietro. Anche, eh? Beh, diciamo che... 48 minuti ci ha messo. Sì, pure perché faceva, mi pare, 24 mila chilometri all'ora, insomma... Andava veloce, eh. Però voglio dire, guardi un giro e torna indietro. Non è poi, ci metti tanti giorni, no? Uno si immagina il giro intorno alla Terra, cioè se pensi col famoso aereo, che pure quelli vanno veloci, se andai da una parte all'altra ci metti come un contotto, impressiona abbastanza scoprire che per fare il giro della Terra e tornare indietro con un'ora e 48 minuti la cosa si risolve. È una cosa così, è un attimo, lo possiamo fare tutti. Va bene, non so se ci sono altri aspetti particolari della vita di Gagarin che volevi raccontarci, mi sembra che ha dato anche tanti altri elementi interessanti, cioè aggiungiamo all'uomo nello spazio, lo studioso, il letterato, questa cosa della casa di Dostoievski mi è piaciuta moltissimo, comunque indubbiamente una persona con una curiosità e con non soltanto quello si immagina, no? Lo sportivo allenato per andare nello spazio e tornare indietro, ma in realtà una bella testa insomma è andata per la prima volta nello spazio. Gagarin era uno sportivo, era allenato, ma lui lo ribadisce pure spesso, non c'era niente del superuomo, anzi era pure orgoglioso di poter smentire una simile visione perché era un uomo d'altezza media, certo giovane, certo in salute, certo allenato. immaginiamo pure che Gagarin praticamente è nato che addirittura aveva perso la casa perché dormiva praticamente con tutti i fratelli in maniera fortunosa, poi comunque erano tanti, poi dopo quando va a Mosca, lavora in fabbrica, c'è il dormitorio della fabbrica, poi dopo con l'aeroclub, l'aeronautica, praticamente Gagarin dorme da solo due o tre giorni, c'è un giorno quando si sposa effettivamente, cioè ci fanno una notte, perché nel frattempo dovrà comunque andare con lo spazio. Una dedizione anche allo studio veramente enorme e da questo punto di vista, cioè oggi a noi ci sembra un segreto, però il suo ribadire spessissimo, il fatto di aver potuto raccogliere questa spinta collettiva, di averne potuto partecipare, questa è stata una cosa che veramente ha centubblicato le forze, perché Gagarin era veramente diciamo così uno di noi, una delle ragioni del suo succe, chiunque si può identificare in Gagarin, un alto un metro e settanta, come dire, anche compagnone con questo bel sorriso, sempre allegro, cioè ci stanno anche le battute, adesso incontrò Gina Lollobrigida che gli chiese Gagarin come sono le stelle, lui le rispose meno belle di te Gina. Bene, io volevo ricordare una piccola cosa che è importante però in tutto questo, che la Red Star Press per festeggiare i 60 anni di Gagarin nello spazio ha, come dire, fatto una super offerta dei due volumi, perché non ricordarlo? Beh, comunque è importante, chi volesse leggere i due libri e ricevere i due libri, non deve fare, come deve fare Cristiano? Vi deve scrivere? Beh, può andare anche sul sito internet della Red Star Press, trova l'offerta, ci clicca e effettivamente li abbiamo messi a tutti e due a 24 euro, comprese le spese di spedizione. Ok. Red Star Press Ah, qua ci scrivono un commento che ci hanno mandato, che tuttora nella Piazza Rossa il suo busto è dopo quello di Stalin, quello più pieno di fiori. E anche seppellito nelle mura del Cremlino, anche le ceneri nelle mura del Cremlino. Mi sembra giusto. Va bene, quindi questo invito tutti quanti a leggere i due libri di Gagarin, non soltanto a sentirne parlare o farsi raccontare come era Gagarin, ma avere la curiosità di scoprirlo da solo perché ha ragione Cristiano, un libro serve, un bel libro è bene pubblicarlo ed è bene che conquisti tanti nuovi lettori. Noi se non ci sono altre domande particolari, volevo ricordare un'altra cosa, abbiamo riniziato la nostra attività dopo un anno non di non attività perché sarebbe ingiusto nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato insieme all'associazione Canapena e le varie attività che abbiamo fatto in quest'anno così particolare, dando supporto sul territorio a chi ha avuto più difficoltà, cercando di aiutare le persone a fare le richieste di quel po' di welfare che è stato distribuito, abbiamo fatto nel primo periodo comunque la distribuzione dei generi alimentari con autoraccolte e ci teniamo a dirlo perché per noi è un impegno notevole quello di attivare da soli i vari canali nei supermercati, andare, prendere, portare e distribuire qui nel nostro municipio e dare anche un supporto anche a organizzazioni, a strutture in giro per Roma con i generi alimentari che avevamo raccontato, abbiamo pensato che comunque abbiamo sempre sostenuto che la distanza fisica non dovesse essere una distanza sociale, abbiamo pensato che a questo punto è bene riprendere in qualche modo le attività, questa è stata una prima iniziativa, ne faremo una il 25 aprile in parte in presenza anche se i numeri potranno essere molto ristretti e per il resto faremo sempre comunque una diretta streaming, presenteremo il libro di Federico Ramponi quando il fumo si dirada. Federico è un compagno qui di zona tra l'altro e racconta vicende che sono legate al nostro territorio e non solo e organizzeremo la presentazione del suo libro nello spazio all'aperto del teatro che è dentro Villa Panfili, purtroppo visti i tempi ci hanno detto che la capienza massima potrà essere di 15 persone ma faremo comunque una locandina, l'ho detto quando il fumo si dirada, vi faccio vedere anche qua la copertina e faremo comunque, manderemo i nostri soliti avvisi e gli inviti a partecipare a questa iniziativa che abbiamo voluto comunque fissare per il 25 aprile perché non volevamo un altro 25 aprile soltanto con la missione alla lapide qua su Fia di Donno Olimpia per ricordare la liberazione, altra cosa che dobbiamo ricordare non soltanto a noi che ce la ricordiamo bene ma fare in modo che venga ricordata in modo più diffuso. Tutto questo vi ringrazio tutti per la partecipazione, per la pazienza nell'aver messo in moto questa macchina infernale che è stata quasi più complicata che mandare una vicella sullo spazio, diventeremo sempre più bravi ma speriamo di non averne poi così tanto bisogno perché speriamo veramente insomma di poter riniziare ad avere, a rifare le cose in presente, insomma a rivederci anche di persona perché indubbiamente ha tutto un altro fascino. Grazie a tutti. Un saluto. Ciao. Ciao Cristiano, grazie mille. Ciao, grazie a voi. Un saluto a tutti, buona serata, a presto. A presto. Ok.